Il bilancio consuntivo 2021 dell'autorità portuale regionale è stato approvato in questi giorni e la quarta commissione della regione ha avuto modo di discuterne con il commissario straordinario, l'architetto Alessandro Rosselli. Lo stesso commissario, come riferito dal consigliere Massimiliano Baldini, ha sottolineato come le funzioni dell'ente siano fortemente penalizzate dalla mancanza di un vero e proprio segretario, emblematico infatti che sia stato possibile realizzare solo il 69% di quanto stanziato. Da qua la nuova richiesta del consigliere al sindaco del Ghingaro e al presidente Gianni di trovare un accordo sul nome a cui conferire l'incarico. Questo anche alla luce della vicenda delle darsene ex Perini, il cui ricorso al Tar è stato ritirato dal comune. Abbiamo appreso dallo stesso commissario dell'autorità portuale, l'architetto Alessandro Rosselli, che il contenzioso che era pendente presso il Tar Toscana per le concessioni ex Perini è venuto meno, nel senso che il comune di Viareggio ha ritirato il ricorso. C'è un decreto del primo di febbraio del Tribunale che dichiara il venir meno appunto del contenzioso, quindi non si comprende più per quale motivo, se non evidentemente politico, non ci sia la nomina di questo segretario. Baldini è tornato anche sulla vicenda a escavo dell'imboccatura, riferendo alla risposta ricevuta dall'assessore Baccelli alla sua specifica interrogazione. Baccelli afferma che in questi due mesi la draga avrebbe terminato le proprie operazioni. Probabile, dice Baldini, che si sia solo superato il momento più critico, ma la questione di insabbiamento è ben lontana dall'essere risolta in maniera definitiva.